Caldo, sole e bagni, l'ottobrata regala sulla spiaggia di Grotta a Mare un anomalo ritorno in spiaggia da parte di residenti e turisti. C'è chi immerge i piedi nell'acqua limpida godendosi il sole, chi sceglie di fare un tuffo. Insomma, temperature record e un caldo anomalo per questo periodo dell'anno rappresentano fattori fondamentali per tornare a godersi il mare sulla riviera Ascolana. Qui da noi fa caldissimo, c'è gente al mare come potete vedere, il lungomare Grotta a Mare è meraviglioso e che dire, godiamoci questi giorni. Anche per lei è una gioia, insomma. L'acqua è il primo inizio, è un po' freschina ma dopo si sta bene, insomma. Da dove viene? Tantino. Sto vicino Madonna di Campiglio. Insomma, prima di riporre i costumi da bagno nell'armadio ci si godono gli ultimi guizzi d'estate, anche perché mercoledì una perturbazione dovrebbe toccare la nostra regione, portando temperature in calo e maltempo. Vi siete tolte le scarpe, avete deciso di fare il bagno? Sì, ne abbiamo approfittato per fare una passeggiata, c'è un clima splendido. Da dove venite? Da Milano. E siete in vacanza qua? No, in realtà siamo qui per lavoro, facciamo un po' avanti e indietro, ormai diciamo che siamo cittadine mezze milanesi, mezze grottamarese. Sì, è un pensierino, lo stiamo facendo, adesso magari andiamo a casa, prendiamo costume. Si sta bene al Grottamare? Si sta bene, si fa anche il bagno, ieri parecchi facevano il bagno perché è una temperatura mai ricordata così. È bella, poi Grottamare è bellissima, io ci vivo e qualche me la tocca.